Il Consigliere Stefano, prego Consigliere, per tre minuti ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Sono onorato di intervenire su questo maxi emendamento di giunta, perché lo faccio con estremo piacere, perché ci sono degli investimenti fondamentali, degli investimenti che non si vedevano da anni in questa città sulla mobilità e di questo ringrazio veramente di cuore sia l'assessore Mazzillo che l'assessore Meleo, perché ci sono degli investimenti strategici sui trasporti che non si vedevano da anni e che sono ovviamente in piena coerenza con quanto ci eravamo impegnati a fare con i cittadini, con il nostro programma. Quindi che se ne dica sui giornali e sui media che ultimamente si occupano di faccende del tutto diverse rispetto a quello che poi concretamente avviene in quest'Aula, per la prima volta questa città comincia ad investire sul trasporto pubblico. Infatti, Presidente, in questo maxi emendamento ci sono delle opere strategiche, come le due corsie preferenziali su Viale Marconi e su Via Portuenze. Sono due corsie preferenziali strategiche, sono due corsie preferenziali fondamentali. Quella su Viale Marconi in particolare ci consentirà nei prossimi anni, quando dovessimo trovare i fondi nei prossimi bilanci, di trasformarla direttamente in tramvia. Inutile che ancora una volta ricordo tutti i benefici che si hanno realizzando delle nuove corsie preferenziali, il rischio di diventare ripetitivo, però sono degli investimenti fondamentali, perché si tratta di veri e propri investimenti. Perché quando io vado a dedicare degli spazi, delle strade al trasporto pubblico, automaticamente ATAC ha minori costi di gestione, automaticamente ATAC può essere più puntuale, e quindi attrarre nuovi utenti e nuovi passeggeri, automaticamente la qualità del servizio pubblico cresce e diminuiscono i costi dell'azienda. Quindi queste ovviamente sono delle operazioni che stiamo facendo a 360 gradi, non solo su queste due grandi corsie preferenziali che ho appena citato, ma in questo bilancio ci sono quasi 800 mila euro per proteggere le corsie preferenziali esistenti. Un altro tema fondamentale sul quale ci siamo battuti quando eravamo all'opposizione e che stiamo realizzando concretamente oggi. Infatti, proprio questo Presidente è un passaggio che voglio fare. Lei sicuramente ricorderà quando eravamo opposizione i numerosi ordini del giorno che presentavamo ed emendamenti ai bilanci passati quando chiedevamo di investire sul trasporto pubblico. Puntualmente le nostre raccomandazioni venivano disattese, invece oggi ci ritroviamo a breve distanza ad avere il privilegio di governare questa città e a realizzare noi direttamente questi investimenti fondamentali. Ci sono anche 600 mila euro su una bike lane, su una corsia ciclabile molto importante, che è quella di via Tuscolana. Ci sono 600 mila euro sull'isola ambientale del rione Monti, un altro progetto importante sul quale ci stiamo spendendo. Ci sono poi circa, vado a memoria, un altro milione di euro su altre corsie preferenziali che potrebbero essere, diciamo, tra virgolette minori, ma in realtà non lo sono perché vanno a chiudere, a rimettere a sistema alcune corsie preferenziali esistenti. Pensiamo all'ultimo, a un tratto della corsia preferenziale sul corso Vittorio Emanuele, parliamo della corsia preferenziale su via Vittorio Emanuele Orlando, della corsia preferenziale su via delle Terme di Diocleziano e così via. Tante altre corsie che possono rendere con degli investimenti minimi il nostro sistema di trasporto pubblico più attrattivo. Quindi, Presidente, appunto, ovviamente il nostro voto non potrà che essere favorevole ad un bilancio che appunto torna ad investire sul trasporto, comincia a trasformare questa città, perché ecco un passaggio che voglio sottolineare e poi mi avvio a concludere, magari per chi ci ascolta possono sembrare delle opere banali, premesso che non lo sono, ma sono delle opere strategiche perché per la prima volta, recuperando il ritardo che ci separa da altre città europee, questa città definisce gli spazi, questa città comincia a ridisegnare le strade e dice che sulla strada devono avere la priorità il trasporto pubblico, le biciclette, i pedoni. Anche qui, ripeto, possono sembrare elementi non così importanti, ma in realtà lo sono, perché le altre città italiane e le altre città europee attraggono investimenti, attraggono turisti perché sono meglio organizzate di noi, non nascondo, ovviamente non ho timore a dirlo, attraggono investimenti perché il sistema di trasporto pubblico funziona, quindi una città che investe nel trasporto pubblico, è una città che automaticamente investe nel turismo, automaticamente investe nella cultura, automaticamente investe nella propria economia. Quindi la ringrazio Presidente e appunto consegno il voto favorevole del gruppo Capitoli del Movimento 5 Stelle. Grazie.